ciao a tutti e benvenuti su tech gaming in questo video vi spiegherò come completare la sfida giornaliera in red dead online che chiede di visitare lagras dove si trova lagras apriamo la mappa lagras è un laghetto situato sull'estrema destra della mappa qui praticamente quindi dove c'è blue water marsh qui adesso ve la zoom da lontano e da vicino dovete praticamente recarvi in questo laghetto per completare la sfida quindi una volta che avete settato l'obiettivo il punto sulla mappa non vi resta che tenere premuto il touchpad se giocate su ps4 e dare una bella cavalcata al cavallo per poi diciamo fermarvi con il controller quindi prendere il controller e metterlo ad esempio sulla scrivania e il cavallo andrà per conto suo quindi una volta che avrete raggiunto quella zona sbloccherete o meglio completerete la sfida adesso lasciamo che il cavallo va di da solo e ci risentiamo tra poco rieccoci come avete visto ho completato la sfida una volta che sono arrivato nei pressi di lagras quindi questa zona paludosa se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto iscrivetevi al canale per supportare tech gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento